Una notizia buona e una meno buona. La notizia buona è che finalmente è stata indicata una data per l'apertura del cantiere per la ristrutturazione del ponte di Ponte Allabate, la frazione nel comune di Pescia. Quella meno buona è che i lavori partiranno presumibilmente fra giugno e settembre 2023 e si protrarranno per circa un anno. Per di più, in questo periodo, per il tempo necessario ad eseguire lavori più impattanti, il ponte sarà completamente chiuso al traffico in entrambe le direzioni, con tutte le evidenti ripercussioni sulla viabilità, soprattutto per i veicoli, vetture e mezzi pesanti provenienti dal territorio lucchese. Questa è la 435 regionale, come detto di competenza della provincia di Pistoia, che da Pescia va verso Collodi, quindi la rotonda, prima di arrivare a Ponte Allabate. Qui siamo a Ponte Allabate e qui è il ponte di Ponte Allabate. La strada poi, oltrepassato il torrente, il Pescia di Collodi, prosegue per Lappato. Il problema sarà per coloro che il traffico che arriva dal Lucca e che non può accedere poi alla zona industriale o comunque alla zona di Collodi. L'alternativa, infatti, per i mezzi provenienti dal Lucca potrebbe essere quella di dover percorrere l'autostrada 11, uscire a Chesino Zanese e quindi venire verso Collodi da Pescia. La provincia di Pistoia, come ci ha confermato il presidente Luca Marmo, sta già studiando soluzioni alternative sulla viabilità affinché la chiusura del ponte sia la meno impattante possibile sul territorio per le persone e per le aziende. Collodi e Villa Basilica, come è noto, è un'area ricca di cartiere. Il progetto, lo ricordiamo, prevede la realizzazione di una nuova struttura resistente all'interno del ponte mediante micropali, in modo da rinforzare sia l'impalcato che le pile, le spalle e le fondazioni. A livello architettonico esternamente il manufatto non subirà nessuna modifica. L'intervento è finanziato dalla Regione Toscana per circa 900 mila euro. Dalla Regione Toscana è poi in arrivo un milione di euro a disposizione della provincia per la sistemazione del manto stradale di un tratto della strada regionale 435, nell'ambito degli interventi che rientrano nel piano di contenimento ed abbattimento del rumore. Questo è il tratto di strada della 435, tre chilometri che appunto dalle casacce va verso fino a Ponta Labate e sarà appunto coperto con materiale Fonassorbente.